Come direbbe il professor Coletti, ti piacerebbe vero avere un'analisi di RealTincom? Tadam! È qua. Adesso ve la racconto, vi racconto quello che vi posso raccontare perché questa analisi è riservata ai miei iscritti al Patreon. Però oggi voglio fare questa analisi con voi e condividervi alcuni spunti di questo mio report e capire se possa piacervi anche per il futuro portare una parte di questi report free sul canale mentre ovviamente per gli iscritti al Patreon avranno tutto il report per loro da scaricare. Tuffiamoci perché non vi voglio far perdere tempo. Allora, come sempre, un'analisi aggiornata al mese in cui la produco, questo è il novembre 2023. Andiamo subito a vedere qual è anche l'indice di questa analisi. In disclaimer, parliamo dell'azienda, dell'industria di riferimento e dei suoi competitors, dei risultati degli ultimi dieci anni, quali sono i fattori positivi e negativi che possono impattare l'azienda, quali sono gli investimenti pianificati che sono stati già fatti, il dividendo e poi ho aggiunto anche il fair price, secondo alcuni miei calcoli che spiego all'interno appunto di questo video. Disclaimer ed obbligo, queste sono analisi che costituiscono tutto tranne che una consulenza finanziaria perché sono fatti in base a quello che sono le mie analisi e le mie prospettive che si basano sia su dati di dominio pubblico, per cui oggettivi, ma anche su alcune valutazioni soggettive delle mie stime e per cui potrebbero essere errati. Mi raccomando. Mi salto la parte dell'azienda perché Realty Income la conoscete tutti, è un'azienda dell'S&B 500 denominata The Dividend Company perché distribuisce da tantissimi anni mensilmente un dividendo. Farò anche un'altra valutazione su un REIT molto più grande e molto più importante di Realty Income che è sulla bocca di tutti di meno perché non distribuisce mensilmente, ma anche quella è solidissima. I vantaggi di Realty Income. Diversificazione settoriale, infatti viene indirizzata molte volte per essere un diversified REIT ma come vedremo non lo è o comunque non lo è ancora così come dovrebbe essere. Ha delle contratti di locazione a lungo termine e questo le permette di avere anche una certa affidabilità nei pagamenti degli affitti perché si affida prettamente, come vedremo più avanti, a degli inquilini pagatori. È un'azienda che ha un approccio molto conservativo nella sua gestione finanziaria, non fa mai il passo più lungo della gamba, questo è importante da sapere. È una società affidabile storicamente, speriamo che non lo diventi l'opposto in futuro, ma lo sappiamo tutti e poi come dicevo prima è una dividenda aristocrats perché distribuisce dividendi mensili aumentati da più di 25 anni e questo appunto riflette anche una certa storia di reddito sostenibile di un'azienda che è gestita in maniera ottima. Come supporta questi dividendi l'azienda? L'azienda con 13.100 proprietà immobiliari principalmente in base ad accordi di locazione CipoLen, i cosiddetti net lease CipoLen e che sono prettamente ma non totalmente su dei prodotti commerciali, 637 dividendi mensili consecutivi, nel corso dei suoi 54 anni di attività l'ha aumentato 121 volte dal momento della sua quotazione nel 1994. L'azienda come dicevo prima viene annoverata molto spesso fra i diversified REIT in quanto avente proprietà in diversi settori ma come vedremo io la vado a inserire nei retail REIT e vedremo appunto dopo perché non parliamo di questo. Per quanto riguarda questa analisi appunto non seguirò la strada dei diversified REIT così come pubblica una REIT che come sapete è l'ente che promuove REIT nel mondo ma come un'azienda retail, un retail REIT. Lo facciamo perché seppur l'azienda è diversificata in diverse regioni principalmente negli Stati Uniti ma come vediamo anche il 12,5% nel Regno Unito, la maggior parte del suo fatturato avviene, l'82.6% dal settore retail mentre l'Indrastia al copia un 13% e il gaming 2% e il resto 1.7%. Però è da dire anche che l'azienda di recente e nel futuro sta pianificando diverse acquisizioni per ampliare la sua diversificazione e ridurre la parte retail che come potete ben immaginare è impattata molto da quello che è il problema inflattivo o recessivo. Cosa molto interessante, l'azienda ha una media di occupazione ponderata nell'arco del tempo di 98,5% dal 1992 e comunque da questa data, dal 1992, non ha mai avuto un tasso di occupazione inferiore al 96%. Questo significa che nella media l'azienda ha tutti i quasi immobili occupati in affitto e paganti. Come vediamo anche da quest'altra immagine il 22% circa del portafoglio dei immobili proprietà va a essere occupato da negozi ed alimentari e casalinghi ed è questo per il motivo per il quale dicevo che è un'azienda prettamente orientata verso il retail REIT e che non è ancora completamente diversificata. Quasi un quarto del suo fatturato poi viene da negozi ed alimentari e casalinghi. Come possiamo vedere la restante parte e comunque la maggior parte retail abbiamo dei drug stores, abbiamo del home improvement, abbiamo ristoranti, sia dining per cui la gente che si va a sedere all'interno, sia quick service, i cosiddetti fast food quindi la maggioranza del fatturato che viene dal retail e l'azienda non è diversificata per settori così come molti pensano. Però per quanto riguarda il suo settore di riferimento pur essendo un retail REIT la possiamo annoverare anche nei diversified REIT perché possiede appunto proprietà in diversi settori le acquisizioni che sta facendo in ambito geografico e in ambito settoriale vanno a protarsi verso altri settori mentre gli acquisti nel settore di retail stanno diminuendo in particolare parliamo di gaming, parliamo di industrial, parliamo di specialized se annoveriamo l'azienda nel diversified REIT troviamo che questo indice è composto da 12 società e il dividendo medio di questo contesto è dell'8.7% mentre se annoveriamo nel retail REIT abbiamo un mercato di 30 società e un dividendo medio del 5,84% e in questo caso se parliamo di retail REIT abbiamo avuto un mercato in contrazione in questo anno ma sappiamo tutti per quale motivo e alla fine del 2022 questo mercato ammontava circa 146 miliardi di dollari americani essendo a metà strada fra un diversified e un retail REIT non abbiamo dei competitor specifici anche se ci sono competitor in tutte e due le piazze ma in questo contesto i più grandi REIT che possono andare in competizione con Realty in Cano possono essere Kimco Realty, Simon Property Group, Digital Realty Trust, Crown Castle, VC Properties, Public Storage che abbiamo trattato nel nostro report precedente, Wall Tower, SBA Communication, Avalon Bay Communities oppure Extra Space Storage che abbiamo citato nel report precedente come tale per valutare questo mercato è inutile farlo settorialmente ma più cercare di fare un'analisi ad ampio spettro su tutto il mercato REIT se vogliamo parlare di performance nell'ambito dei retail e dei diversified REIT possiamo vedere che year to date i due indici hanno performato rispettivamente il meno 8.92% per i retail REIT e il meno 26.11% per l'indice dei diversified REIT ma questo è solo per gli year to date perché se guardiamo sul lungo periodo la storia è diversa infatti come possiamo vedere dalla figurata di questi dati che sono stati estrapolati dallo Standard & Poor's Down Jones Indices LLC i retail REIT negli ultimi tre anni hanno sottoperformato costantemente tutti i restanti REIT avendo avuto un meno 6.4% mentre l'indice Dow Jones REIT è al 6.5% positivo e i due settori che hanno dato maggiori soddisfazioni sono i Tower REIT e l'Industrial se andiamo a vedere invece un trail in periodo di 10 anni in questo caso troviamo i nostri amati retail REIT che sono a metà classifica verso il basso della classifica della metà 10.1% mentre i nostri amati safe storage che abbiamo trattato nel report precedente hanno performato un 19% anno sui 10 anni che non è male e per cui vi consiglio di andare a studiare e approfondire se siete interessati nel settore di REIT per quanto riguarda il fatturato e il cash flow e il balance sheet negli ultimi 10 anni ovviamente vi faccio vedere i dati veloci altrimenti chi è membro del Patreon non guadagna niente comunque un fatturato sempre in crescita, una revenue sempre in crescita, un profitto netto sempre in crescita con margini lord operativo e di profitto sempre positivi liquidità anche questa in crescita, c'è stato un basso nel 2020 ma questo perché ovviamente il 2020 è stato un anno molto particolare se andiamo a vedere l'aumento degli asset e delle attestature possiamo vedere che alla diminuzione della liquidità c'è anche un aumento dei asset totali per cui degli immobili i fattori positivi abbiamo un portafoglio di immobili diversificato, affidabilità elevata e politica di buyback infatti i ricavi di real income vengono utilizzati anche per una politica di buyback con ricavi in aumento di 5.6 miliardi nel 2023, un aumento del 10% rispetto all'anno precedente inoltre il real income ha aumentato i canoni nel 2023 del 2.5% perché ha avuto un impatto minore appunto su quello che è la questione inflattiva e ha effettuato la questione di immobili per circa 2.3 miliardi di dollari se poi siete iscritti al Patreon vi lascio questa pagina un secondino e poi la sposto e potete andare a trovare come sono diversificati in termini di immobili il portafoglio di real income per quanto riguarda i fattori negativi essendo un RIT prettamente indirizzato verso il settore retail il calo delle vendite al dettaglio potrebbe andare a influenzare questa tipologia di RIT ed è questo uno dei motivi per cui il real income sta diversificando ancora di più il suo portafoglio di immobili continuiamo ad avere una certa incertezza sui tassi di interesse che stanno ancora castrando un po' e tarpando le ali a questo settore ma poi nel momento in cui i tassi di interesse si andano a liberare il settore dovrebbe almeno prendere il volo un altro fattore potrebbe essere la qualità degli inquilini la redditività dei RIT è anche legata alla qualità degli inquilini e medical property trust ne è un esempio in questo caso avere inquilini che siano tutti investment grade o molto di più diciamo in senso molto al di sopra della storia dell'investment grade dà anche una certa stabilità dei pagamenti una certa stabilità del flusso di cassa e quindi una maggiore probabilità di investire in nuovi immobili e aumentare il capitale da parte dell'azienda per quanto riguarda gli investimenti pianificati ne abbiamo parlato prima 2 miliardi e mezzo di investimenti in nuovi asset ma parliamo anche della struttura di acquisto che si sta concludendo in questo periodo dell'acquisto da parte di real income di spirit real capital che è un altro RIT un real estate investment trust acquisito appunto è trovato in tutti i dettagli dell'acquisizione all'interno del report parlando di dividendo attualmente dal 1969 che era il suo primo dividendo non quotato pagava 5 centesimi per l'azione oggi è cresciuto a 1.22 dollari per l'azione pensate che crescita di dividendo con un tasso di crescita annuale del dividendo un caldo del 5.3% attualmente il dividendo annuale appunto è 1.22 dollari e questo è sostenuto da diversi fattori che potete trovare all'interno del report però per concludere una volta andate a guardare tutti questi fattori il dividendo di real income è sostenibile con un track record di oltre 50 anni il pagamento attuale del dividendo è pari al 46.4% delle FFO e funds from operation e del 44.6% dell'AFO adjusted fund from operation questo indica che l'azienda ha un margine in sicurezza sufficiente per sostenere il dividendo anche in caso di costruzioni del mercato avverse ed aggressive inoltre come dicevamo prima l'azienda ha anche un programma di buyback in corso da un miliardo di dollari che è stato annunciato il 19 ottobre del 2023 e che dovrebbe concludersi l'anno successivo il 19 ottobre 2024 quindi questo oltre ad aumentare il valore dei dividendi aumenta anche un valore per gli azionisti perché riducendosi le azioni in circolazione a prezzi piuttosto bassi rispetto a quello che è il suo fair price l'azienda tenta di premiare gli azionisti al 21 novembre 2023 l'azienda comunque ha già acquisito 400 milioni di dollari delle proprie azioni per quanto riguarda il fair price lo potete trovare se vi iscrivete a Patreon sia sul file Excel ma appunto sull'analisi di Realty Income il mio PCM ecco questo lo devo dire per conflitto di interessi io sono azionista di Realty Income e il mio PCM è di 49.97 dollari per azione che leggermente sopa rispetto al fair price comunque vi ho dato un piccolo indizio come l'ho calcolato? questo ve lo dico adesso ho fatto un dividend discount model un prezzo storico sui FFO price on FFO una valutazione AFO mediana di tutti i competitors un dividend discount model ho preso anche il prezzo indicato da 12 analisti sul mercato ho fatto una media eliminando il valore più alto il valore più basso indicato in queste metriche e poi per quanto mi riguarda ho fatto un 20% di margini di sicurezza e ho ottenuto il mio fair price potete fare anche voi così se volete alla fine trovate anche tutta la bibliografia tutte le fonti che ho utilizzato per andare a gestire e a creare questo report ricordandoci che questi non sono né consigli di investire non investiremo solo spunti per scopo didattico e di approfondimento in ogni caso se siete interessati a questo report potete venire a supportarmi nella grande famiglia del Patreon dove oltre a questo report potete trovare anche tantissime altre cose dedicate a voi che mi sostenete in ogni caso se siete nuovi su questo canale o volete sostenermi semplicemente su YouTube basterà semplicemente iscrivervi e cliccare la campanella delle notifiche magari condividere questo video e questo sarà un bel love da parte mia per voi e anche da parte vostra per me noi ci vediamo in un prossimo video a presto Grazie a tutti